Sono qui per dare supporto al papà di Ilaria Salis. Il caso Salis è una chiara violazione dei diritti umani, abbiamo visto tutti quanti come è stata portata in aula. È una chiara violazione dello Stato di diritto, perché noi lo sappiamo, l'Ungheria non c'è la possibilità di una separazione tra il potere giudiziario e il potere governativo. Quindi Ilaria non ha la possibilità di avere un processo giusto ed equo, per cui io credo che sia importante agire insieme. Qua ci sono diversi gruppi politici e credo che questo sia molto importante, ma dovrebbe esserci tutto il Parlamento, perché qui non è solo una questione di una cittadina italiana. Qui è una questione del rispetto dei diritti umani e del fondamento dei diritti su cui si basa l'Europa. Proprio ieri in Commissione giuridica abbiamo votato per andare contro la decisione della Commissione di ridare i fondi all'Ungheria. Io credo che questo sia un passo importante perché la condizionalità sullo Stato di diritto non può avere deroghe. Grazie.